Ciao, sono qui ecomi tornata a casa a Benalmadena, Malaga e sono qui al sorgere del sole. Il sole è appena sordo, non riuscirai ovviamente a vedere nulla perché ovviamente abbaglia la telecamera. Quello che voglio trasmetterti oggi, approfittando proprio che siamo all'inizio della giornata, è quello di creare qualcosa di magico per te. Trova un buon proposito, che poi ovviamente è importante far diventare realtà, trova un qualcosa che puoi trasformare in un miracolo per la tua vita. Ossia, utilizza questa giornata per fare qualcosa che senti veramente importante per te e che stai rimandando da tanto, tanto tempo. Qualcosa che potrebbe cambiare la situazione magari della tua vita o della tua giornata, semplicemente. Magari hai voglia di parlare con qualcuno e questa cosa la stai rimandando da tanto tempo. Magari è una telefonata, quella cosa che vorresti fare e che non stai facendo. Magari hai un progetto da avviare, da iniziare. Ad iniziare un progetto non ci vuole niente, basta fare la prima parte e il progetto è iniziato. Cioè, praticamente da un pensiero che hai di iniziare qualcosa, inizi a tirarlo giù, inizi a fare le prime azioni. Ad esempio, tu, se hai intenzione di scrivere un libro, ti basta iniziare a scrivere il sommario o la prima pagina. Ebbene, sei già diventato uno scrittore, quindi ti basta proseguire quel percorso. Quindi, trova qualcosa di veramente importante, di veramente eccitante, di veramente trasformativo che sia connesso a lasciare andare qualcosa, quindi magari una telefonata, qualcosa che hai bisogno di risolvere oppure un progetto da iniziare. Quindi, scrivi sotto questo video qual è stata la tua scelta e che cosa è arrivato nella tua vita grazie a quello che hai scelto di fare. Ovviamente, tutti i progetti e tutte le cose da lasciare andare vanno sempre fatti con amore. Non si tratta di... non è quello che ti volevo dire, ovviamente sfogarti con qualcuno che ti ha fatto arrabbiare ma magari semplicemente esprimere quello che hai provato, che tu hai provato e che è tua responsabilità, ovviamente perché così tu almeno puoi alleggerirti, confrontarti e magari mettere a posto una relazione che era rimasta in sospeso. Ok? Spero di essere stata chiara, quindi scrivimi sotto questo video così vediamo che cosa succede nella giornata di oggi. Ti mando un abbraccio fortissimo e ti auguro una giornata piena piena di sole e di luce. Ciao!